Salve a tutti ragazzi, benvenuti in questa nuova puntata di Minecraft Mod Oggi parleremo di un'altra mod aggiornata 1.8.5 molto interessante e molto semplice Come sapete le mod 1.8.5 che sto recensendo sono vanilla mod ragazzi Quindi sono mod create con i command block dall'1.8 in su Allora, poi per il ragazzo che mi ha chiesto fai la terraria La terraria mod ancora non la posso fare perché sta venendo aggiornata 1.7.10 E non hanno il download ancora, quindi appena sarà disponibile la farò sicuramente Allora ragazzi andiamo a vedere la mod La mod di oggi non è stata fatta da Ija Minecraft intanto E' portal gun one command ragazzi, la portal gun con un comando Allora, di sicuro non saranno come i comandi di Ija Minecraft perché è molto bravo Però ci sta, ci sta Allora, come vedete si sta generando Ecco qua che si genera la piattaforma solita che conosciamo ormai Ok, parto nei command block, si pulisce e ecco qui Allora abbiamo delete machine right click here Oppure portal gun in mc vanilla E command by the red engineer Quindi ragazzi questo è un altro youtuber che fa appunto questi bellissimi macchinari Allora, bam, portal gun in mc vanilla Drop above one ender pearl and a block of iron Ok ragazzi, arco, ender pearl e block of iron Portal gun, ci ha creato l'arco portal gun ragazzi, guardate Yeah Cliccando qui di destra creeremo il primo portale Vedete? Guardate che bello I colori sono diversi come nel portal gun, guardate Yeah, ho aperto i due portali Adesso se io entro di qua Entro lì Oh E di qua E di qua Yeah Per farli chiudere Basta premere Q e gettare l'arco per terra Si chiuderanno, guardate Yeah Ok Vediamo un po' se posso metterlo anche in alte altezze Ok, l'ho messo là sopra E lo metto uno qua Quindi adesso mi dovrebbe portare lì sopra Yeah Boom E anche al contrario No, al contrario no Sì, funziona, funziona, funziona E con Q Liviamo i portali Quindi possiamo tranquillamente creare una portal gun Anche in vanilla ragazzi 1.8 in su In questo caso 1.8.5 Questa è la portal gun mod Creata appunto come abbiamo detto da TheRedEngineer E praticamente basta cliccare qua per levare tutto Ci rimane il portal e basta Vedete? Da 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 Però non funzionerà più E niente ragazzi Spero vi sia piaciuta anche questa vanilla mod Ci vediamo nella prossima puntata Lasciate qua sotto Hashtag utile Hashtag inutile O hashtag mi piace Come volete E niente ragazzi Ci vediamo nella prossima puntata Delle Minecraft mod Che vediamo nella prossima puntata Che vediamo nella prossima puntata